E finalmente festeggiamo i dieci anni di questo grandissimo, grandissimo personaggio. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, a cui parliamo di fumetti e di cose nerd. Cosa c'è di più nerd se non festeggiare i dieci anni di una testata? Traguardo epico, traguardo incredibile, traguardo importante, traguardo che Dragonero ha tagliato con estremo slancio, senza mostrare i segni della vecchiaia, dell'abitudine. Anzi, continuando a sfornare spin-off, prequel, sequel, in tutti i modi possibili, immaginabili, da cartone animati a videogiochi a cartonati a libri, una serie incredibile quella di Dragonero che potete recuperare con un video che ho fatto qualche tempo fa in cui vi dava il recupero di Dragonero fino alla serie del ribelle. Su un mondo scuro dobbiamo aspettare perché è appena iniziata, sono soltanto otto numeri e quindi dobbiamo aspettare il naturale svolgimento per capire quali sono i numeri essenziali e quelli no. Venite più vicino. Perché tra quelli no, probabilmente questa volta si inserirà questo numero, un numero non essenziale allo svolgimento della trama, almeno in apparenza, perché in mondo scuro, molto più che nel ribelle, nella serie originale non l'avevano neanche accennata questa cosa, ma evidentemente a un certo punto è venuto in mente, i numeri, diciamo, meno di trama hanno comunque un appiglio importante alla stessa. In questo caso, colui che dorme negli abissi è un fumetto che probabilmente non sarà essenziale allo sviluppo della trama di mondo scuro. Questo perché? Beh, perché riprende due cose, anzi tre, tre albi, diciamo due storie, per svariati motivi. Adesso vi dico anche quali, perché poi ci rivediamo anche tutti quanti gli intrecci di trama. E poi parliamo dei dieci anni, perché in questo numero si festeggiano i dieci anni di Dragonero. Allora, andiamo a vedere. Il primo numero che si riprende è Zanne e Acciaio, che però è il numero 7 della serie regolare. Ragazzi, dieci anni fa i fumetti costavano 3,30. Adesso stanno a 4,90, ma negli ultimi due anni siamo passati da 3,90 a 4,90. Quindi calcolate questo che in dieci anni, i primi sette anni sono aumentati di 50 centesimi, gli ultimi tre sono aumentati di 1 euro, sano. E poi dite che non c'è l'inflazione. C'è l'inflazione, ce n'è tanta, ce n'è parecchia, anche perché qui non sto ne criticando, non mi interessa. Io, un dato oggettivo è questo. Sono aumentati. Per lo stesso numero di pagina, lo stesso tipo di storie, eccetera, eccetera. E credo che i compensi siano o i medesimi o addirittura siano diminuiti, nonostante, questo lo dico sempre, Sergio Bonelli, editori, sia una delle case editrici più serie in Italia. Nel fumetto, nei libri, in tutto, sia una delle più serie d'Italia. Quindi, nonostante questo, nonostante tutto questo, c'è stato questo problema. Torniamo alla storia. Quello che dorme negli abissi, il numero 8, Idragonero Mondoscuro, si lega a Strettofilo, a Zanne e Acciaio e a Nel Regno di Zephyr. Due numeri, 7 e 8, di dieci anni fa, ormai, poco meno di dieci anni fa, della serie originale, con le copertine di Matteoni, bellissime, e la vecchia grafica, molto molto bella. Io questo numero me lo ricordo, questi due numeri me li ho acquistato per storia, me la ricordo perché è una storia molto importante per la formazione di Gmor. Io l'ho messa anche all'interno del recupero, perché in questo caso si vede molto bene il legame tra Yan e Gmor e è una storia che fa percepire anche tutto il vissuto, non il vissuto, tutti i sentimenti dell'orco che si porta dietro Yan e del perché sia importante nella vita di Yan e di che cosa lo faccia essere così differente dagli altri orchi, un po' come Yan è differente dagli altri uomini, da quasi tutti. Quindi due belle storie che si ricollegano per il coprotagonista, o almeno la coprotagonista, del fumetto. Già perché non è uno spoiler, perché si capisce subito, lo dicono subito, beh, vi faccio vedere due scene molto belle. Questa qui è la fine del numero 8. Il numero 8, l'avreste dovuto leggere, ma comunque vabbè, la fine è così. Questa ragazzina che abbraccia Gmor è una delle protagoniste dell'albo 7 e 8. Una ragazzina, i ragazzini orchi non vanno d'accordo, si abbracciano e in questo caso Gmor dà veramente l'aspetto umano, l'umanità alla serie di Rago Nero. Non è Yan l'uomo, è Gmor. Per quello a me ha sempre affascinato il rapporto fra i due protagonisti assoluti della serie. Perché l'uno compensano i difetti dell'altro, ma soprattutto si è un gioco di specchi. Perché quello che dovrebbe essere umano, invece, lo riversano nell'orco. La saggezza, la pacatezza, anche la forza e la rabbia. Ma quella è un'altra cosa. E soprattutto l'affetto, l'affetto che ha per Sera, l'affetto che ha per questa bambina. Come si affezioni. Yan non lo fa. Eppure è un uomo. E quindi questa qua è una cosa bella. Insomma, c'è sta ragazzina e noi ce la ritroveremo qui. Con lo stesso abbraccio. Laika. Lo stesso abbraccio tra Gmor e Laika, dieci anni dopo. Io ve lo dico. E qui mi ricollego al festeggiamento dei dieci anni di Drago Nero. Non l'hanno festeggiati. Ancora. Non l'hanno festeggiati. In alcun modo. Nell'editoriale di questo numero ci sono due righe di Luca Barbieri, che dice appunto sui passati dieci anni, eccetera, eccetera. Ne parla un po'. Ma vi dico una cosa. Senza piageria. Vietti. Numero scritto da Vietti, poi ne parliamo. In questo caso fa una bellissima cosa. Questo è forse l'omaggio più interessante che ci si potesse trovare di fronte a Drago Nero. Perché? Perché riprende quello che è lo spirito di Drago Nero, dell'inizio di Drago Nero, della serie, della coppia di Henegmor, tornano a vivere come due scout imperiali. È veramente un omaggio grosso. E se non lo cogliete, ragazzi, mi dispiace per voi. Mi dispiace. Perché questo è un omaggio, appunto, ai primi numeri di Drago Nero. È un omaggio importante. In quanto quei due numeri sono importanti per la trama e per la crescita dei personaggi e qui vengono ripresi. Dieci anni dopo. Certo, ci aspettavamo il numero a colori, ci aspettavamo... Perché però sono iniziative commerciali. Qui invece c'è una storia. Una bella storia. Aggiungo. Che pone questa celebrazione. E secondo me è una bella cosa. Altra cosa importante. La prima volta in cui si sono visti Laika e Gmorr. È questa qui. Gmorr sta dietro una gabbia. Se non vi ho messo curiosità di regolarvi 7-8. 7-8 della serie originale. Non so come potrei fare. Però veramente è una delle più belle storie che ho letto di Drago Nero da sempre. Da sempre cartonati. Cioè, questa è una. Zanni Acciaio e poi la successiva nel regno di Zephyr. È una delle più belle. Tutti quanti parlano della saga delle regine nere. Della nera signora. L'ultima cosa del ribello. Questa doppia storia è veramente stupenda. Non sarà l'unica cosa che verrà ripresa. Perché si riprenderà anche un Senz'Anima Inferi. E qui c'è molto del lavoro di squadra che hanno appunto gli autori. In quanto Vietti recupera una cosa importante che non si era chiusa. E nel numero, nel primo Senz'Anima di Luca Barbieri. Che è questo appunto Inferi. Che ve la faccio vedere in due vignette. In Inferi. Non vi dico neanche la popilla di chi è. Perché non vi voglio fare spoiler. In Inferi si vede questa creatura sulla popilla di qualcuno. E in questo numero c'è la stessa identica immagine. Come sarà stato ripreso? E vabbè. Poi lo vedremo. Poi lo vedremo. E in questo caso non vi voglio spoilerare assolutamente niente. Tornando a Mondoscuro. Tornando a una cronaca un po' più spicciola di quello che è il numero. Copertina, come al solito, Gianluca Pagliarani. Una copertina che ci... Spoiler ha come sempre nel suo minimo lo scontro importante che ci sarà per gli anni. Con questa creatura tentacolosa. Storia di Vietti. La sceneggiatura di Vietti e Mazzocco. I disegni di Cristiano Cucina. E per la prima volta su queste page Luca Bulgheroni che si è occupato della parte nera. Della parte... Vabbè, non vi voglio spoilerare di cosa. Però di questa parte qui in cui vediamo Gian sofferente. Un numero... Qui c'è l'editorale di Luca Barbieri. Un numero che vedrà anche le linci protagonisti. Chi ha letto è 7 e 8. Se le ricorderà anche lui. È una vecchia conoscenza. Una vecchia conoscenza che ha avuto anche lì uno sviluppo interessante. I disegni sono dei buoni disegni. Le tavole sono delle belle tavole. La lettura scorre tranquilla. Scorre in modo molto molto lineare. Ci sono queste tavole che sono molto belle. Che come al solito raccontano senza un balloon. Ma soltanto appunto con le immagini. Che cosa sta succedendo nel mondo scuro. In questo drago nero mondo scuro. Perché Laika andrà. E questo è un piccolo spoiler. Ma tanto voglio dire. Se arriva subito a questo. Andrà a chiedere l'aiuto di Jan e Gmor. E proprio per questo aiuto. Loro si rincontreranno. E questa qua è la pagina di prima. Gli ho fatto una foto per avercela. Più facilmente disponibile. Una storia che, devo dire. Mi ha convinto soprattutto per questi motivi. Perché a un certo punto gli stessi Gmor e Jan dicono. Dicono. Mi manca. Aspettatevi. Mi leggo esattamente quello che ti... No. Vabbè qua parlano di Zephyr. Infatti qui c'è Jan e Acha. Eccolo qui. È da un po' che non sentivo questi silenzi. Mi manca viaggiare per l'ero. Andare lento pede. Già. Come quando eravamo scout. Meglio. No. Quelli erano bei giorni amico mio. Non facili ma bei giorni. Meglio di tutto quello che è arrivato dopo. Questo è sicuro. E per questo vi dico che questo qui è un numero celebrativo a tutti gli effetti. Ed è una bella trovata. Ed è una bella trovata. Perché? Perché se non si organizza nulla per i dieci anni. Per i più sferati motivi che io non conosco e che non posso star qui a esaminare. Perché non mi compete. Non conoscendoli neanche. Creare un prodotto del genere vuol dire avere rispetto del personaggio. Vuol dire avere rispetto della propria storia. Vuol dire anche andare oltre quelli che sono gli schemi. I soliti schemi. Un po' più commerciali. Perché sì no? Lo volevo a colori. Lo volevo di dieci pagine in più. No? Perché magari ci doveva stare il gadget. No. Qui hanno creato una storia che celebra tutti gli effetti questi dieci anni. E va bene così. Va bene così. Ora vi avevo promesso video più brevi. Quindi la chiudo qua. Ovviamente non ve ne parlo in modo spoiler. Perché non avrebbe alcun senso. È una storia che non aggiunge nulla. Se non veramente delle sfumature. Alla trama principale. Una storia che, ripeto, non consiglio come storia di trama mondo scuro. Ma consiglio sicuramente come punto interessante di celebrazione di questo Dragonero. Mondo scuro. Oltretutto qui sul Colophon c'è scritto mensile numero 8. Ma in realtà corrispondente a Dragonero 121. Quindi dieci anni e un mese. Ragazzi, detto questo. Che altro dirvi? Voi l'avete recuperato. Io l'ho recuperato il primissimo giorno. Quindi probabilmente voi l'avrete già letto. Come vi è sembrato? Come siete entrati in questo mondo scuro? Come questi dieci anni li avete passati insieme a Dragonero? E se non avete passato i dieci anni, quando siete entrati in Dragonero? Per me è estremamente interessante capire queste dinamiche. Capire queste cose. Perché? Perché poi ogni tanto appunto faccio quei video. Come recuperarlo, come non recuperarlo. E vorrei capire qua sotto chi è che l'ha recuperato, anche grazie a quei video. Alcuni di voi me lo scrivono. Altri invece no. So che è la normalità. Però per me è un feedback, è un riscontro interessantissimo. Quindi se volete, qua sotto nei commenti, mi dite tutte queste belle cose. Io le leggo sempre con attenzione. Magari arrivo un attimo dopo. Però le leggo sempre con attenzione. Noi ragazzi ci vediamo domani per il solito prossimo video. Ciao belli.